E' venerdì, i ragazzi giovanissimi si allenano per la prima volta allo scoperto. L'allenamento al campo sportivo della Vittoria di via Nazionale, in quanto il Manterboso di via Olimpia è indisponibile per presenza ancora di neve. I ragazzi stanno allenando per prepararsi alla gara di lunedì, ma non è sicuro che si giochi in quanto c'è il mutuo cittadino per la perdita del socio Luciano Caporale è ferito insieme alla moglie nell'albergo di Rigopiano, di Rigopiano di Parintola. I ragazzi stanno facendo una partitella, più per forse so parla, a metà campo in quanto anche in questo campo è un praticante. Mister Gabriele, il mister, i nostri ragazzi, non ci sono tutti, alcuni sono indisposti per vari motivi, assenti per vari motivi. I ragazzi con la casacca rossa sono carano qua, Guido che vogliamo poi di spalle, Luca, Filippo con la infonto, Lorenzino, Alessio, Federico con la infonto, mentre i gialli abbiamo Matteo, Gabriele, Lele, Teidi, Michele qua, Gianluca là in fondo e Teidi che sta chiamando la palla, dove abbiamo anche Nicolò. Ecco Lorenzino che ha preso la palla, ha portato a Luca. Grazie.